Bene, il pianista sta già accenando un brano, questo brano è del 1929, un brano che sicuramente ha passato gli anni, ha passato il secolo ed è arrivato a noi e si tratta di un brano che è stato coinciso mi sembra nel 1934, nel 1935 da Benny Goodman, Star Falch of Alabama. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti